Sei ancora disposta ad affrontare la prova suprema? Sì, sono sicura che la dea a te mi saprà guidare la mano di Ercole. La sua vita è nelle tue mani. È una cosa impossibile. Nessuno è riuscito mai a superare questa prova. Ercole ha superato prove anche più difficili di questa. Stai tranquilla. Vuoi che intervenga un altro al posto tuo? No. Se gli dei sono giusti, devo riuscire. Hai visto? Ercole non può sbagliare. Guarda, adesso tira la seconda. Non posso guardare. Non posso. No, che vera. Non posso guardare. Non posso guardare. Mi mente è un libro che è quello di chiudere. È un libro che era un libro che è stato spesso. E un libro che era un libro che è stato scusati. La prova non è terminata Ma è svenuta, sta male Non aver paura, siamo alla fine Tra poco la tua padrona sarà salva, vedrai Zeus, padre mio, aiutami Ma come ti permette? Ormai il tuo piano è fallito Riuniamoci subito nella sala del consiglio Dei amica Mia signora Grazie